Stefano Allasia, che cosa prevede il Decreto Destinazione Italia? Il Decreto Destinazione Italia è un timido esempio di questo governo in cui sta cercando di fare in modo che le imprese italiane si avvicinano sempre di più all'Europa. Per cercare di aumentare la competitività ha messo in atto una serie di provvedimenti che troviamo abbastanza di poco conto. Fortunatamente si è reso conto che con i carrozzieri e con il sistema assicurativo non c'era partita e ha ritirato il provvedimento di Tranfretta. Rimangono tanti nodi scoperti in cui adesso nel sistema parlamentare discuteremo gli nostri emendamenti cercandogli di fare approvare e migliorare il testo. Ma qual è la posizione della Lega Nord? È positiva nel senso che necessitano dei provvedimenti ad hoc per le nostre imprese. È negativa perché è assolutamente iniqua rispetto al monte di crisi che c'è nel nostro Paese e i soldi messi a disposizione da questo decreto. Perciò assolutamente non possiamo accettare che si mettano più soldi per altri settori rispetto a quello dell'imprenditoria. Una vittoria della Lega c'è già stata, ovvero quello che riguarda le assicurazioni? Sì, una serie di provvedimenti sono stati accolti in commissione, fra cui quell'abolizione, uno stralcio dell'articolo 8, dove piegava e metteva in ginocchio totalmente i carrozzieri a favore delle assicurazioni, non tenendo conto poi anche oltre i carrozzieri gli assicurati che dovrebbero essere maggior tutelati da questo Stato.